ciao e benvenuti in un nuovo video allora oggi vi mostro questa box di look fantastic è una box mista viso corpo e capelli per la rimisa in forma prima della primavera ed estate inutile che vi spiego di più direi che è il caso di andarla ad aprire e scoprire assieme ed è team fantastic ok ad aprire ed alcuni prodotti sono full size anti travel site ma comunque sia formato vendita a un prezzo di 35 euro ed è sul sito di look fantastic e prende vari marchi oltre che essere blu anche la velina blu direi cavolo è bella piena ma mi aspettavo per il peso e direi di andare a scoprire subito che cosa contiene allora il primo che mi salta su è questa che della kerastase quindi direi che partiamo già benissimo resistenze maschera riparatrice ristrutturante quindi per i capelli questo è un 75 ml per i capelli paghiano sempre bisogno di essere riparati e ristrutturati e poi kerastase è un ottimo marchio poi andiamo avanti c'è qualcosa di piccola qualcosa di grande questo secondo me è un sample lancaster sun beauty crema protezione spf 30 ma dalla misura direi che è un sample infatti è un 3 ml ok andiamo avanti e vedo questo che è l'eco già il marchio yoga waterproof mascara ok cosa dice di essere andiamo a vederlo la confezione è un questo extend e poi fa vedere che questa confezione intanto credo che sia un full size ma ve lo dico dopo non c'è scritto benissimo perfetto ok si è un 4 ml quindi è un travel size ma formato vendita e dice che lo scovolino è particolare fatto così adesso lo andiamo a vedere effettivamente particolarissimo alcune setole in più morbide altre più rigide credo che forse da qui perché è nero e bianco si vede meglio il duo fibre ok proviamo sono mascara sapete che sono sempre ben accetti dalle mie parti andiamo avanti con un prodotto grande bondi suns australian tan ok crema idratante con vitamina e jojoba e cocco self tan friendly quindi che aiuta la bronzatura una crema per il corpo che favorisce non la bronzatura self tan che aiuta gli autobronzanti il profumo è abbastanza ok ci sono a un ph bilanciato che aiuta a mantenere la bronzatura ed è classica solare ed alta bronzante perché con questo ph bilanciato che comunque è una crema ricca ma che si asciuga velocemente non va a far rimuovere più velocemente l'alta bronzante ci sta nella bronzatura ok è in full size da 200 ml lo proverò sicuramente più avanti perché questo ci ispira poi ho visto questo marchio detto no vabbè avida nuti plenish living conditioner balsamo living quindi spray senza risciacqua idratante idratante a base nutrienti per tutti i tipi di capelli ci sta perché comodo è un balsamo spray è un full size da 200 ml profumo un po' alcolico devo dire ma andiamo avanti ok da quello che vedo qui piccolo o grande il prossimo andiamo con un piccolo skinny tan coconut water face serum tanning drop gocce auto abbronzanti effettivamente perché primaverili 30 ml concentrato self tanning ok allora secondo me è da agitare un attimo perché infatti vedevo delle micro pagliuzze all'interno che una volta agitate e questa è la confezione non è un buonissimo profumo ecco non volevo detto non me lo voglio dare addosso perché poi mi auto abbronzo solo una parte ma è uscite quindi lo proviamo si stende super velocemente e assorbe super velocemente quindi comodissimo soprattutto per il viso a mio avviso ci sta adesso ci sono ancora quattro prodotti andiamo con questo nip fab illuminante vitamin c tonic lozione tonica la vitamina c da 100 ml quindi in full size e il tonico mi piace il fatto che se la vitamina c mi piace lo testerò ma direi che alla grande buono molto buono poi andiamo avanti con follow of the call of the disco ball shimmer scrub ha un gommaggio al sale è da frank body 100 grammi quindi è in busta ma bello grande massaggiare lo scrub sul corpo ed sciacquare dopo tre minuti dice che è vegan friendly ma in australia non contiene noci noci ed è una formula da anche da viaggio volendo ci sta mi piace e ti lo proverò lo proverò perché mi scura poi andiamo con renne perfect canvas clean jelly oil cleanser gelé queste formule gelé mi piacciono sempre rimuove il make up spf e inquinamento 100 ml è chiusa e la lascio chiusa perché ne ho degli altri da provare e andiamo con l'ultimo prodotto e vedo il Lamasca il Lamasca gel rinnovante per la pelle questo è un 6 ml ok fatto così beh la confezione è bellissima poi ok beh io devo prendo il pestrallo adesso ma mamma ha una formula proprio gelatinosa ma esattamente a che cosa serve così per farci due domande mi piace la formula ed effettivamente è gelé gel per la pelle leggera riduce le imperfezioni ok è un idratante per pelli molto deidratate ok direi che proviamo anche questo che comunque si assolve abbastanza velocemente curiosa molto curiosa di provare questi palotti allora fatemi sapere da quale volete che parto alla fine dice viso corpo e make up viso abbiamo trovato il Lamasca le gocce altabronzante di Skinny Tan Nipfab e oserei dire ah no scusate struccante il cleanser struccante di Rin è ok poi per quanto questo è un campioncino quindi lo scudiamo corpo abbiamo lo scrub al sale e la crema idratante di Bondi Sans che è come si dice self tan friendly perfetto per i capelli abbiamo trovato Nutriplenish di Aveda e la maschera ristrutturante di Kerastage siamo un po' stretti per quanto riguarda i prodotti make up che c'è solamente il mascara che però è waterproof quindi è stivo e niente quindi questo era tutto il contenuto della box e direi che vi ho detto tutto quanto fatemi sapere quali prodotti vi incuriosiscono di più quali avete provato quali vi interessano io li testo li testo tutto e vi farò sapere come sempre spero che vi siete avuto un po' di compagnia di idea di avermi fatto conoscere qualche prodottino interessante fatemi sapere se guarderete questa box e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao ciao